Salve a tutti, vi invitiamo a visitare le nostre pagine in rete, il nostro profilo Facebook e il nostro sito Enjoy Viaticus. Oggi vi portiamo in Vietnam, siamo a Danoio, la capitale. Alle mie spalle è la pagoda dall'unico pilastro, uno dei tempi buddhisti più importanti e iconici di tutto il paese. Venne eretto nell'undicesimo secolo, nel 1049, il re Taitong lo eresse per ringraziamento verso la dea misericordiosa Kuan Am, secondo la leggenda, perché la dea gli apparve in sogno dicendogli che avrebbe avuto un figlio maschio e indicandogli un fiore di loto. Il pilastro di cemento che regge la pagoda ricorda in qualche modo appunto il fiore di loto. E' una delle attrazioni principali della città di Anoi, si trova a pochissima distanza dal mausoleo di Ho Chi Minh, nella zona circa un chilometro e mezzo del quartiere vecchio, dove c'è anche la cattedrale di San Giuseppe. Quindi, per chi viene da noi, la pagoda dall'unico pilastro è sicuramente una meta imperdibile. Seguite Enjoy Viaticus e contattateci per i vostri viaggi su misura in tutto il mondo.